ragazzi eccoci qui in una postazione che conoscete molto bene per parlare di Triangle of Sadness del grande regista svedese già vincitore a Cannes con The Square e ha fatto una doppietta con quest'ultimo film di cui parleremo perché non sono solo ma c'è qui il mitico Marco Chitano è un onore essere qui ragazzi che bello purtroppo non per una puntata non per una puntata del nostro format molto apprezzato che tornerà e siamo nella stessa stanza anche se non sembra tutto a posto come stai? tutto bene un po' un'intervista doppia sì esatto abbiamo deciso di fare questa recensione insieme perché diciamo che la tematica di base del film abbastanza esplicita a dir poco esplicita abbastanza demagogica quasi diciamo che non non ha nessun tipo di volontà di risultare critico allo spettatore cioè prende una decisione molto netta dall'inizio alla fine e il messaggio quello è intanto ti è piaciuto il film quindi mi sembra di capire mi è piaciuto l'ho visto un pochetto magari ne parleremo forse per chi ha visto magari per un ragazzo di 18 anni che si approccia un tipo di cinema adesso per la prima volta sembra super innovativo però magari per chi ha visto tanti film è vero abbiamo notato tanti riferimenti ne abbiamo parlato prima pure anche off live assolutamente sì nei vari capitoli diciamo che il film è suddiviso in tre parti essenzialmente il primo che riguarda questa coppia molto interessante mi sono diciamo anche rivisto in alcune dinamiche la seconda è la parte della cruciera e lì c'è un po' di Monty Python soprattutto nella scena vabbè faremo spoiler ovviamente spoiler assoluti su tutta la recensione la scena insomma dei vari vomiti e l'ultima parte esatto l'ultima parte sulla spiaggia è praticamente travolti da un insolito destino di Lina Vermeule sì me l'hai detto l'altro giorno io l'avevo pensato infatti mi hai anticipato ma siamo stati proprio d'accordo su questa cosa la parte della spiaggia è identica sì allora a me questo regista Ostlund piace non poco anche Forza Maggiore era un film notevole diciamo che ripeto lui non ha nessun tipo di intenzione di andare in maniera di suggerire determinate conclusioni di essere criptico no no lui è diretto ha una sua idea sul mondo e la ribadisce a più riprese addirittura mettendo anche in bocca ai protagonisti degli espliciti dialoghi su marxismo comunismo socialismo tra l'altro fantastico il personaggio di Woody Hallerson che io sono rimasto sorpreso quando l'ho visto il capitano perché non avevo visto un cazzo io quando riesco non guardo trailer non guardo attori magari vedo il regista che mi piace e vado diretto al cinema visto che questo tipo di cinema non è un cinema che lavora sul divismo hollywoodiano quindi anzi la preferenza è non prendere attori famosissimi e c'è anche poca enfasi su determinate inquadrature eccezione fatta per un paio però un film molto pulito la regia ha pochi virtuosismi pochi virtuosismi è quadrata macchina da presa oserei dire quasi invisibile che è un pregio esatto molto secco e arriva lo stesso discorso tendenzialmente viene fatto con gli attori nel senso che tu non prendi l'attore che deve richiamare qualcuno ma un personaggio nel quale puoi identificarti nessuno si identifica in Brad Pitt a parte qualche mitomane comunque per tutto il film alla fine non è al centro dell'attenzione infatti che hai un attore così famoso un altro regista magari l'avrebbe tutto incentrato intorno a un attore così no ma in realtà ha senso il fatto che sia l'unica vera star diciamo almeno per il nostro mercato chiaramente per quello europeo e americano perché effettivamente si comporta proprio da star a parte che mi ha ricordato Gianluca cioè l'unico che avrebbe potuto surclassare Woody Alverson in quel ruolo è il CEO che è proprio non voglio responsabilità quel personaggio e lì funziona perché ti deve un attimo stupire no tu vedi questa porta chiusa dove si sentono rumori di bottiglie e cose del genere a un certo punto si apre e c'è lui ed è ovviamente perfetto io ho pensato che da tutto questo tempo in contatto con tutta questa classe borghese che si vomita addosso insomma nel suo lusso più totale che l'ha fatto diventare magari così di estrema sinistra però forse ho fantasticato io l'internazionale in sottofondo lui a un certo punto dice boh io non sono veramente un idealista perché alla fine comunque sto qui nel mio nel mio lusso poi cerca un po' di redimersi diciamo che è una persona che si è ritrovata all'interno di una classe sociale tendenzialmente alta non a livello dei ricconi che salgono sulla sua nave però comunque privilegiato che se ne rende conto e cerca anche con le sue poesie i suoi scritti e nell'atto finale di redimersi se così si può dire però non è totalmente convinto secondo me cioè è un personaggio particolare perché un po' vive comunque nei vizi perché alla fine lui non si prende le responsabilità e delega tutto all'altro il secondo no? si si la scena con il russo infatti lì comunque è più una discussione anche lui era indeciso insomma ne parlano si 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 è bella tra l'altro quella scena quello scambio si si il comunismo c'è solo in due posti ah no funziona solo in due posti in paradiso e all'inferno in paradiso non serve nell'inferno c'è già infatti ce lo dice però il ricco borghese che si è preso tutti i sordi è russo tra l'altro il russo che vende merda comunque per quanto riguarda il film in sé a me è piaciuto anche perché l'ho trovato ottimo dal punto di vista dei dialoghi delle interpretazioni il messaggio ovviamente essendo così didascalico mi può appassionare fino a un certo punto io sono questa però è una preferenza personale sono più affascinato dai film che richiedono un po' di sforzo allo spettatore però non contesto ovviamente le scelte di un regista che decide di veicolare un determinato messaggio ribadendolo a più riprese alla fine è anche giusto che in questo mondo consumistico ci sia qualcuno che insomma dica queste cose qui mi piace appunto l'utilizzo di tutti gli strumenti come fotografia la regia la scenografia e la recitazione veramente portata al messaggio e meno all'estetica cinematografica nel senso che da poca soddisfazione allo spettatore diciamo così medio non ti dà grandi scene virtuose eccezione fatta per il dialogo in macchina della coppia in taxi nella prima sezione quando loro parlano c'è un campo e contro campo molto interessante e lì non ho capito se si tratta di una camera a mano ti ricordi quando loro tornano dal ristorante io l'ho visto una ventina di giorni fa allora loro praticamente finiscono la discussione al ristorante quella molto divertente sul conto vabbè stereotipi di genere eccetera e quando salgono sul taxi c'è una credo macchina a mano che diciamo riprende campo contro campo ma senza stacchi sembra tipo o un falso piano sequenza o un piano sequenza ed è interessante perché è un po' storta e sembra seguire diciamo il movimento basculante del taxi e poi una scena abbastanza d'impatto è quella dei razzi sulla spiaggia quando lanciano il razzo diventa tutto l'ultimo razzo che li spregano però tutto il fatto che stavano comunque lui così arrabbiato sui soldi è importante che ritorna pure dopo secondo me sul fatto che lui c'ha questa insicurezza che sta lì è il meno ricco dei ricchi alla fine là in mezzo e poi dopo non voglio se spoiler no no vai 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 tanto abbiamo detto free spoiler era un po' il toy boy di lei e alla fine questo meccanismo per quanto pure come hai detto tu mi è sembrato ridondante se era capito che lui era il toy boy quindi diventa il toy boy della lavoratrice perché lì poi nella spiaggia il potere ritorna ai lavoratori alla fine e quindi lui va da lei perché gli regala magari un prezzo è una cosa del genere però lo so a me sembrava ridondante perché sembra chi è bello guadagna di più però non so se il senso può essere pure dietro che è un meccanismo così inserito nella società che anche quando si eleva la società comunque l'uomo lui è il toy boy quindi va da chi c'ha il potere ma guarda però sicuramente mi è sembrato molto di Tascalico è un po' tipo avevo capito sta cosa sono 20 minuti mi dici sta cosa però magari noi siamo molto abituati esatto tra volte hanno il solito destino ma magari pure l'angelo desterminatore a me pure un po' Titanic un pizzichino con le casse che poi quando sta per affondare le casse non servono più a niente i soldi esatto e infatti c'è la scena dei Rolex quando stanno sulla spiaggia ti do sto Rolex dammi un pezzetto di salatino dentro che c'avevano paura di un animale che poi vedrete sì sì no sono d'accordo nel senso che magari ecco per un giovane può essere comunque un film anche importante per farlo riflettere insomma un altro aspetto della vita poi si può non essere d'accordo però perlomeno va un po' in controtendenza rispetto al consumismo e al capitalismo che comunque è essenzialmente il nostro mondo cioè noi viviamo imbevuti all'interno di questo sistema qualcuno dice che sia l'unico in grado di esistere non lo so però comunque vedere anche l'altra faccia di questo meccanismo non è male ovviamente il discorso legato alla lavoratrice è che poi si collega chiaramente al finale è l'ultima ruota del carro diviene la prima nel momento in cui hai bisogno di determinate capacità e soprattutto si crea sulla spiaggia una sorta di sistema matriarcale ed è interessante quello che dicevi tu perché fondamentalmente la moneta di scambio rimane invariata quindi non so se questa è una presa di posizione da parte del regista un po' alla città delle donne di Fellini per dire anche in un futuro dovesse comandare una donna in una sorta di dittatura non cambierebbero queste dinamiche semplicemente invertirebbero il genere quindi l'uomo il corpo dell'uomo diventa la moneta di scambio per la donna di potere esattamente come oggi nella maggioranza delle società chi ha il potere brama il corpo di una donna quindi non lo so un po' stile berlusconiana come dinamica quindi questo mi è parso poi ovviamente il finale rimane aperto tu l'hai apprezzata sta cosa del finale aperto sì cioè alla fine è bello però non lo so un pochetto che ti lascia un po' il dubbio però alla fine non c'è troppo sto dubbio diciamo parliamo di questa scena ovviamente diciamo che secondo me lo fa perché comunque lei un po' aveva raggiunto sta situazione di potere l'idea di ritornare di riabbandonare e di ritornare in quella società dove lei veniva sfruttata anche se aveva delle grandi capacità cioè poi lì c'era proprio quella situazione a caste quant'è bella la scena di quelli che fanno money money quella scena è assurda e c'è sta questa casta sotto che quasi non hai mai visto che li chiamano pure quella scena di loro dovevano andare a fare voi dovete riposare voleva farla riposare la ricca e loro si devono andare a riposare quando decide lei a fare il bagno nella fine è un lavoro quindi se sono dove di svegliare andare a riposare quando lei ha deciso e non lo so la cosa assurda è che poi nessuno fa domande se ci fai caso lei diceva ti abbiamo anche aiutato gli faceva la signora invece lei sapeva far tutto e comunque anche se era grollata la società all'inizio volevano mantenere questa situazione dei caste tu sei la nostra serva all'inizio faceva tutto eccola questa è la scena di cui parlavi eccola la scena è assurda è assurda perché tra l'altro sì c'è una disparità anche tra le figure servili se vogliamo esatto loro neanche ambiscono a prendere gli avanzi cioè proprio lì la cosa sì un po' mi ha ricordato anche un film che non ho amato moltissimo quello su Netflix che era simile a The Cube come si chiamava è quello del buco il buco esatto cioè sopra ci sono i ricconi che usufruiscono di tutti i servizi tra l'altro che infame il ragazzo della modella che fa licenziare poveraccio non capì proprio il valore del lavoro lui che lui era insomma sì sì che va là tutto in goblin scusate però questo si è levato la maglietta solo perché solo perché la ragazza ha detto vabbè mi sembra affascinante un uomo affascinante e c'è questa scena dove loro comunque sono ribadiscono il fatto che il loro scopo è servire in ogni singolo aspetto addirittura droghe o unicorni esatto e comunque però hanno una posizione di privilegio rispetto alla parte inferiore e la cosa che a me ha colpito molto sai qual è il momento che citavi tu su andate a far bagno è terribile perché loro si fanno delle domande infatti quando la tizia nella piscinetta dice vabbè ma spogliati dai veniti a fare il bagno lei ovviamente tentenna quelli invece che sono nella stessa posizione della donna che poi prenderà il potere sulla spiaggia non dicono niente niente andate a fare sto bagno niente proprio quelli dormivano neanche la domanda ma perché ma in che senso non c'ho il costume assurdo ma pure la visione di chi sta in alto nella casta e che pensa sto facendo un bel gesto neanche si rende conto che sta a costringere delle persone che hanno lavorato tutto il giorno a svegliarsi di pomeriggio hanno lavorato tutta la notte magari nella sala motori a svegliarsi del giorno nell'ora dormivano a farsi il bagno perché lei vuole farli riposare è proprio quello lei poi lo dice pure che io non so sono sempre stata nella ricchezza non lo capisco com'è la vostra vita infatti lì secondo me non è giudizievole nei confronti di quella donna dice semplicemente chi ha vissuto nella bambagia e nel privilegio da sempre non può comprendere e anche quando si sforza di essere buona magari fa danni perché non è quella la modalità diciamo giusta e sul finale aperto invece ti dico io tendenzialmente alcuni finali aperti non li apprezzo se non vedo una presa di posizione netta perché c'è una volontà di rimanere democristiano diciamo così esempio Inception cioè Inception tu semplicemente non hai una risposta perché Nolan non sa dartela quindi sta trottola se muove o non se muove è vero finto un sogno entra al sogno è proprio l'esempio classico di finale aperto che utilizzi quando non sai come chiudere un film in questo caso l'ho apprezzato perché in realtà la posizione è netta dal terzo minuto quindi è totalmente ininfluente quella è la scelta del singolo cioè quella singola pedina all'interno del suo discorso generale non cambierebbe nulla cioè il singolo lì potrebbe dire no l'ammazzo perché voglio rimanere in questo status in cui sono effettivamente la regina di quest'isola oppure la risparmio perché sono non arrivo fino a questo punto però è ininfluente perché tanto quella è semplicemente una pedina un esempio di come potrebbe andare il mondo ribaltato il regista diciamo è stato chiaro sulla sua visione esatto lì non c'è un dubbio sulla direzione poi quella è la scelta del singolo tutto il resto è il messaggio molto chiaro cosa pensa lui della disparità sociale di chi si approfitta anche inconsapevolmente perché non vedo un giudizio estremo sui ricchi qui sì 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 no ma infatti è il sistema dice comunque esatto cioè non c'è un giudizio capito il ricco è infame il cattivo il ricco non capisce perché si ritrova all'interno di questo meccanismo anche il russo stronzo alla fine sta lì ridanciano non è simpatico non è simpatico non è non è cattivo non è spietato qualcuno l'ha paragonato anche a Parasite a differenza di Parasite secondo me nonostante il messaggio in parte possa essere simile comunque si parla sempre di disparità sociali classi sociali ricchi poveri eccetera ecco Parasite è un esempio di film che però è anche cinematograficamente super accattivante cioè Bong Joon è più virtuoso cioè delle sequenze veramente notevoli di piano sequenza che ti fanno fare porca troia cioè questo è proprio il cinema anche dove si gioca con la macchina da presa qui no qui è proprio secco è il classico cinema svedese il cinema nordico dove la pulizia dell'inquadratura difficilmente lascia spazio a momenti di cinema troppo caricati al massimo più di tutto sulla critica che loro sono molto comunque anche Bong Joon è molto di sinistra sì 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 tutti i film pure dei host sì sì no dal punto di vista del messaggio sì però come scelta artistica sono diversi sono diversi cioè Bong Joon predilige anche un'estetica forte d'impatto lui secondo me è più è più solido non so come dirti poi non c'è un migliore o peggiore dipende anche dipende da come vuoi far arrivare un determinato messaggio magari il messaggio è lo stesso però ti arriva attraverso una forma diversa in modo diverso diciamo che in linea di massimo preferisco Bong Joon come regista perché lo amo però lui ha semplicemente un altro approccio che funziona perché appunto sceglie di essere più secco poi anche lui ha di Tascali sì anche lui ha dei momenti abbastanza sopra le righe ad esempio la scena del vomito collettivo è eccessiva con il water con la merda che esce fuori il declino delle democrazie occidentali lei vomita e naviga nel suo vomito nel lusso un po' mantenere tutto messaggio tutto in modo che i soldi rimangano sempre nella stessa casta e la nave affonda cioè quello è il senso secondo me un po' che vuole che ormai siamo arrivati alla fine di questo sistema secondo il regista sì un po' il declino della situazione odierna almeno nelle democrazie occidentali eh sì essenzialmente questo poi non so il raggio Sterminatore mi ha ricordato un po' sta cosa pure il fascino discreto da Borghese un po' Conuel molto bello però diciamo per chi avesse visto sti film è una cosa che magari per chi è piaciuto questo consigliamo di recuperarsi sti film pur a me è piaciuto molto comunque questo ho visto molte similitudini il film è notevole assolutamente diciamo che ecco ci ha sorpreso poco ecco sì perché fortunatamente abbiamo visto un bel po' di film però è anche difficile secondo me trovare un regista mainstream perché comunque non è chiaramente ignarri tu o Nolan però è un regista che comunque ha vinto due volte a Cannes sono andati bene anche i film The Square Forza Maggiore quindi un regista che comunque ha un suo nome non è Nicholas Winding Graffner però ha un suo nome e comunque lavora su queste tematiche che ripeto difficilmente escono fuori devo recuperarmi gli altri sono notevoli quindi assolutamente da vedere consigliato inutile perché tanto se avete visto questa recensione è piena di spoiler anche se non abbiamo troppo esagerato diciamo che abbiamo parlato del messaggio che ripeto dopo cinque minuti è intuibile quindi non c'è chissà cosa da svelare però invece come consiglio recuperativi magari anche film che hanno ispirato consapevolmente o meno alcuni sì altri forse no questo regista una volta da un insolito destino come hai detto anche tu è palese che c'è l'ha visto sicuramente la stessa cosa ricca con il mozzo di bordo e finiscono su un'isola diciamo qui c'è un collettivo lì so due però è uguale cambia solo che so di più alla fine è identico che le sue abilità contano in quel contesto e la ricchezza non conta niente che lei pretendeva comunque in quanto superiore ma invece poi alla fine c'è pure il sesso morboso è proprio tutto è proprio tutto devo dire della parte della spiaggia almeno è molto ispirato secondo me sì 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 noi guidiamo anche perché vedo che in chat del Cerbero c'è scritto zio pera che palle però vabbè sono meno un quarto no meno venti a voi dai ragazzi io vi prometto che riporterò chitanone sul canale con le lezioni di cinema un onore ragazzi con piacere tornerò perché veramente me lo chiedono ad ogni video mi dicono ma quando tornano c'avete ragione però come vedete purtroppo qui si martella siamo dovuti diciamo venire un'ora prima per fare questa cosetta però vedete che insomma ci diverte tanto grazie Marco è stato un piacere Davide grazie mille ciao a tutti ragazzi alla prossima torneremo anche magari con delle clip di scream le cose che abbiamo fatto noi per spiegare pure le inquadrature tanto ce l'abbiamo lo faremo torneremo ciao ciao